che è una cipolla? per i passeri? per i passi, per i passi, per i passi è per bellezza, solo per bellezza? è una cosa, sono rimasto unico, non sono riuscito a giocare, allora ho imparato hai imparato? niente, 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 ma non perché si guadagni, è una tradizione ma di che piante venne? questo è il nocino? è molto, ma ti chiesto una cosa? è un segreto? no, no, assolutamente no, guarda il segreto, noi li chiamiamo gli angiolini, cioè questa è una foglia piccolina, la stessa foglia dell'urino, però è piccolina, 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 piccolina ma stessa ragione, è crescere più o meno la stessa, va, come su, sotto e così in gomma, su uniforme, non è così, massiccio sotto, così oh, meglio fare, non ne faccio l'urino, si trova che mi piace bene mamma mia, non è più vellessi, non è più vell' cats賣 organismale ma più, meglio fare, non è più vell' הצ motocchietta Grazie a tutti